grazie ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora tocca a voi arianna e ma ok andiamo a giocare un bellissimo bellissimo gioco di rock apply coiron è un gioco che è simile ad animal crossing però vedremo perché new games allora si chiama kata why castaway rad paradise castaway paradise non so se ho detto giusto il nome spero di averlo detto giusto intanto come si può vedere qua nell'oceano sta dormendo un pescatore o una pescatrice poi dovrete decidere stanno arrivando delle nuvole la radio le annuncia che c'è qualcosa vedete tutti i pesci che scappano perché c'è qualcosa che sta arrivando mi sembra anche un po strano una barchetta con i remi che sia in mezzo all'oceano e guardate un'onda anomala e è affondato tutto la barca si è girata i remi sono di qua e di là e lui è sotto l'acqua che dovrà ok arriva una maialina o una mucca non si sa bene che cos'è la lingua non è in italiano pensavo che era in italiano ma forse nelle impostazioni si può mettere anche in italiano ok il maschietto che naso che ha ok 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 Grazie a tutti. L'acqua le diamo, vedete, ed è nato un alberello. Vedete la tenda, è simile ad Animal Crossing, vedete come potete vedere. Un cuoco però è un cervo dovrebbe essere. Il resto è un lavoratore ed è solo una scimmia. Ok, la grafica mi sembra un po'. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare d'altro. Ok, andiamo a vedere cosa ci dice. Ok. Ok, e dovremmo aver messo... Ok, anche l'acqua. Ah no, dobbiamo aspettare i secondi. Ah, non ci farà strellare ancora, è strano. Dobbiamo aspettare i secondi che passino. Livello due. Ok. 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 A presto. C'è! Ok. Vedi. ok ragazzi allora 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 intanto do anche l'acqua ok ragazzi allora ci vediamo stasera tra un po' con questo giochino qua su Twitch e non perdetevi la live perché su Twitch sarà davvero bella e con questo sempre e soltanto Nintendo ciao